Un detto della mia terra che dice l'anno nuovo va accolto con una bella donna io sono fortunato, avvicinatevi ragazzi sono fortunato perché ho accanto a me una ragazza che fa spettacolo nell'orchestra spettacolo di Casa Dei si chiama Rita e permettetemi di salutare quest'anno che sta per andare via con un bacio un bacio che io consegno a lei ma che idealmente consegno a tutte le donne che ci stanno seguendo in questo momento Rita, un bacio a papà e cosa sarà mai? Allora l'orchestra spettacolo Casa Dei ci dà spettacolo con un waltzer sapete ballare il waltzer? e qual è il waltzer di Casa Dei? è simpatia 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 un pizzico di simpatia e tanto buon umore la 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 è simpatia